l'eterno ti guiderà del continuo isaia 58 verso 11 cosa ti angustia se forse prigioniero di un groviglio inestricabile di pensieri e non riesce a trovare il sentiero per venirne fuori rimani fermo e vedrai la salvezza di dio e li conosce la via e ti guiderà se griderai a lui ogni giorno porta con sede le perplessità ma quanto è dolce avvertire che la guida del signore continua se scegliamo le nostre vie o ci conformiamo alle opinioni correnti rigettiamo la guida del signore ma se evitiamo l'ostinatezza e li dirigerà i nostri passi ogni ora del giorno e ogni giorno dell'anno ed ogni anno della nostra vita se desideriamo la sua guida sopra ogni altra cosa scopriremo di essere guidati se affideremo le nostre vie al signore e li dirigerà il nostro cammino e non ci smarreremo ma notiamo a chi viene fatta questa promessa leggiamo il versetto precedente se l'anima tua supplisce ai bisogni dell'affamato dobbiamo essere sensibili ai bisogni degli altri e donare loro non poche croste di pane secco ma quelle cose che noi stessi vorremmo ricevere se mostreremo interesse e affetto per i nostri simili nell'ora del bisogno il signore prenderà cura delle nostre necessità e sarà sempre la nostra guida gesù non è il conduttore degli avari né di quelli che opprimono il povero ma dei caritatevoli dei sensibili tali persone sono pellegrini che non perderanno mai la strada